Quindi questa storia non è soltanto strana, è spaventosa. New York City ospita quasi 9 milioni di persone e quest'uomo, l'astronauta Mike Massimico. Che cosa c'è alla fine della 59esima? Qui? Sì, ma come si chiama? Che zona di qui in sé? Long Island City. È vero, c'è Long Island City alla fine della storia. Già. Lei da dove viene? Sono nato qui a New York, ma ho vissuto a Houston in Texas per 22 anni.